Limite dei 90 km orari a ridosso del centro abitato di 9. Limite dei 90 km orari, le immagini parlano chiaro, stabilito anche sul velo ok, sempre a due passi dal centro abitato. Siamo sulla provinciale 52 per capirci la strada che collega 9 a Pozzo Leone. La segnalazione è arrivata puntuale da voi telespettatori, che a più riprese avete chiamato Rete Veneta per sottolinearci quella che si può definire una vera anomalia. Con tutta la campagna contro l'eccesso di velocità sulle nostre strade è infatti suonata come nota più che stonata questo limite elevato. 90 km orari sono fissati ad esempio sulla tangenziera di Padova, arterie carreggiate ben separate. Non sono certo contemplabili a ridosso di un centro paese dove vigono di rigore i 50 km all'ora.